Noi abbiamo protocollato questo documento, un documento del 27 novembre, giusto con 5 punti per correggerlo, questo piano, nella prossima annualità. E abbiamo puntualizzato che per l'ufficio di piano, per tutto il funzionamento del piano, dal nostro punto di vista, 541.000 euro sono tanti. Mario Cortesi, gentile come sempre, come lo era anche il responsabile del dottore Paolillo di Santa Maria, ha detto che non sono veri questi conti. Io volevo indicare che questi conti sono stati dati da loro nella nuova programmazione che abbiamo fatto qualche mese fa, dove si evince che per il segretariato sociale ci sono 154.000 euro. Per il servizio sociale e professionale, cioè per tutte le figure professionali, assistenti sociali che faranno servizio nel piano, ci sono 209.000 euro. Solo per il funzionamento di piano ce ne sono 178.000 euro. Queste somme, che non sono servizi per i disabili, per i minori o per gli anziani, sono soldi che vanno a loro, quindi non è che sono servizi. Quindi io voglio soltanto puntualizzare. E ho detto che tagliando, livando queste somme, possiamo dare qualche servizio in più ai ragazzi disabili che necessitano. Questo abbiamo detto e nient'altro. Noi siamo per una collaborazione, per un miglioramento di tutto, specialmente di questo piano che come primo anno speriamo che parta con il piede giusto. Un intervento costruttivo o il vostro? No, noi siamo sempre e solo costruttivi, non abbiamo nulla, però dire che non sono vere queste somme. Questo è il piano che hanno fatto loro, quindi limato in parte. Poi per quanto riguarda i 36.000 euro del centro di prima assistenza, Mario dice che ci sono stati degli utenti, però noi neanche nella concertazione abbiamo avuto prova di queste presenze. Se anche nella prossima programmazione ci viene data la prova delle presenze in questo centro di prima assistenza, se necessita è meglio metterne di più di 36.000, però se non necessita è meglio dare servizi. Tutto qua. Il vostro quindi è un confronto costruttivo nell'interesse del territorio e delle persone che hanno bisogno di questi servei? Certo, noi dobbiamo dire subito che i piani sociali di zona per il passato non hanno funzionato bene, non hanno dato risultati. Li abbiamo spostati a Vallo della Lucana e da Castella a Bate, ci aspettiamo che ora inizino a funzionare bene. Noi non siamo polemici, vogliamo costruire insieme a loro dei piani che diano soprattutto servizi ai cittadini che ne hanno bisogno. Li invitiamo, se voi siete d'accordo con l'emittente, a fare un incontro qui in televisione, a parlarne liberamente, ma per costruire qualcosa, non per distruggere. Il problema è che i soldi probabilmente sono pochi e devono essere razionalizzati bene.